Perchè mi hai risollevato, non hai permesso ai miei... Alleluia, alleluia, la forza e la fede che ha reso nuova l'esistenza. Signore abbi pietà di me, Signore vieni mio io, dell'uomo. Lo stesso Gesù dice poi a quella notte, è tutto per te. Siamo venuti qui appunto per renderlo male, anche oggi così come meritava sia come artista, come donna e anche per quanto riguarda il supporto che ha sempre dato a tutta la nostra comunità LGBT. Quindi era sentito, dovuto. Grazie Raffaella. Siamo qui oggi tutti col sorriso a mangiare la donna che ha fatto sorridere gli italiani per anni, li ha intrattenuti a dovere la vera attrice, cantante, il tutto, la vera artista. Poi mi viene da piangere e da morire, quindi non... È una cosa tremenda, esatto, sì. Però lei voleva l'allegria, voleva il sorriso e quindi si ride, si ride sempre. Grazie a tutti.